Imra progetta e fornisce ascensori, montacarichi, elevatori in genere, impianti ed ausili per diversamente abili, con un servizio di assistenza 24 ore su 24. Scriviamo il futuro con le nostre idee, formarsi per esserci. E questo è il progetto che verrà presentato domani, domenica 5 dicembre alle ore 10, presso il complesso monumentale di San Giovanni a Cava dei Tirreni, per dare ascolto alle donne, assistenza e formazione anche negli altri 364 giorni dell'anno e non solo il 25 novembre. Ascoltare e formare, tendere una mano prima e non dopo, prevenire e comprendere. E questo è il concetto in cui crede fortemente l'Innerwill, che ha sposato un'idea con altri partners e ha aperto il progetto di ascolto e formazione con il workshop Donne e lavoro, nuova visione d'impresa. Perché donna e lavoro? Perché è il momento più opportuno questo? La nuova normativa europea, le linee guide del PNRR, sicuramente attenzionano l'empowerment al femminile. Qual è il problema vero? È quello che spesso il popolo, la collettività ha difficoltà proprio ad approcciarsi al cammino, all'inizio. A chi rivolgersi? Come fare? I soldi non piovono dal cielo, bisogna strutturare un'idea, svilupparla, renderla fattibile se è una buona idea e poi devi cominciare a intercettare il mondo della finanza, le competenze specifiche. Quindi noi tenteremo, al di là del convegno, tenteremo nel prosieguo di fornire assistenza formativa e informativa. Quindi chiunque ha delle buone idee, e non solo nel territorio cavese, dove spero ci sia ovviamente una buona richiesta, vuole e può mandarle agli indirizzi che sono sulla nostra locandina, comunque sostanzialmente all'Inner Will, all'UCID e up to lab, che è l'equip tecnico di professionisti che vengono da Roma e che prestano assistenza. Ci sarà un primo approccio, ascolto e check-up iniziale gratuito, poi è chiaro tutti gli stakeholders che condividono con noi e collaborano e i professionisti porteranno avanti l'idea fino a realizzare una start-up, con noi ha abbracciato l'idea una banca, che è la Banca Campania Centro, che è una banca di territorio. Ha creduto nell'idea, sono entusiasti, seguiranno con noi il percorso. Poi ci sono le rappresentanze di istituzioni importanti al femminile, quindi Confindustria, abbiamo il Comitato Femminile Plurale, Camera di Commercio di Napoli, Camera di Commercio di Salerno, l'Ogepo, cioè l'Università, tutti gli osservatori al femminile. Ma questo non vuole essere una discriminazione, attenzione, se no cominciamo col piede sbagliato. Io personalmente, che sono un po' l'ideatrice e l'anima, cioè chi coordina tutto questo, sono convinta che dobbiamo essere sempre speculari, complementari, equilibrati. L'uomo e la donna devono essere a fianco e camminare insieme. Tutto questo progetto è indirizzato alle donne, ho detto all'inizio perché, ma ai giovani. A me piace dire, mi piacerebbe vedere imprese di fratello e sorella, di mamma e figlio. Cioè benvenga che insieme si hanno buone idee, ci si rivolge per un approccio iniziale a noi e poi si crede in quello che si vuole portare avanti e forse si intercettano anche i fuori.